5, 4, 3, 2, 1 vai sinistra 3 50 sinistra 4 lunga destra 3 lunga altra licea sinistra 3 lunga si 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 destra 3 lunga altra licea sinistra 3 lunga destra 4 vai lunga destra 4 vai 50 sinistra 3 lunga destra 4 destra 4 30 attenzione tornante destro e tornante sinistro e tornante destro sinistra 3 tornante sinistro tornante destro sinistra 3 sinistra 3 ancora sinistra 3 accenno destro sinistra 3 più e ora è il tornante destro 3 il tornante destro 30 30 accenno destro sinistra 4 vai 150 50 attenzione attenzione tornante sinistro accenno destro subito destra 2 meno 2 meno per sinistra 3 due tempi accenno destro sinistro destra 3 più sinistra 3 destra 3 ritarda tieni lunga per sinistra 3 50 al muro destra 3 e stai destro per tornante sinistro cambio strada occhio olio occhio olio accenno tornante accenno destro subito tornante destro quell'olio va fatto parco un bussolato tornante sinistro 50 alla casetta sinistra 3 e attenzione stai a sinistra per destra 3 50 giù tutto fine prova grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.